Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il piano regionale Amianto. Obiettivo eliminare tutti i manufatti contenenti Amianto entro il 2025, a partire da scuole ed edifici pubblici. 25 milioni di euro le risorse necessarie alla sua realizzazione. Silvana Cossato, Partito Democratico. Si pone l'obiettivo di dare soluzione allo smaltimento dei manufatti contenenti Amianto, prima completare la mappatura dei siti, successivamente sostenere lo smaltimento delle presenze di Amianto. Sarà necessaria anche un'azione per lo smaltimento di Amianto dei siti privati. Massimo Berrutti, Forza Italia. È un risultato certamente tangibile. Quello che ci lascia un pochino perplessi sono due aspetti di base. Uno, il fatto che non si può fare un piano Amianto e naturalmente finanziarlo veramente in modo minimale. E dall'altra, è dove lo mettiamo l'amianto. Oggi ci sono più o meno 2 milioni e mezzo di metri cubi che non sappiamo dove inserirli. Una petizione con oltre 20 mila firme per il riconoscimento delle cure domiciliari dei malati non autosufficienti all'interno dei LEA è stata consegnata al Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, che l'ha trasmessa a deputati e senatori piemontesi affinché assumano una posizione in Parlamento. Più di un milione e 600 mila pagine di 103 giornali locali del Piemonte dal 1846 ad oggi. Sono i numeri del portale giornalidelpiemonte.it, presentato a Palazzo Lascaris, un patrimonio prezioso sulla storia del territorio, fruibile da tutti su una piattaforma online. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. Questo portale rende fruibile un patrimonio straordinario del nostro territorio perché si può raccontare un secolo di storia del nostro Piemonte, quindi ogni cittadino può toccare con mano la fruibilità e la potabilità delle informazioni della nostra regione. Alberto Sinigaglia, Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte. La memoria dell'informazione è un formidabile serbatoio di dati per gli storici. È uno strumento però anche prezioso per i giornalisti. Nel cosiddetto vecchio giornalismo troviamo regole, tecniche, moralità, principi che noi dobbiamo portare con noi nel futuro. Raccontare le persecuzioni dei cristiani in Pakistan è ricordare la figura di Shabbat Bhatti, ministro per le minoranze ucciso il 2 marzo 2011 dai fondamentalisti. È l'obiettivo del viaggio in Italia di Monsignor Joseph Kutz, arcivescovo di Karachi e Presidente della Conferenza Episcopale del Pakistan, che ha tenuto una conferenza a Palazzo Lascaris. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay tv o cellulari? Il Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11 È tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte, alla radio.